Porta chiusa al Comune di Chieti perché sono scaduti a mezzogiorno i termini per la presentazione delle liste elettorali che il 20 e il 21 settembre prossimi daranno vita alla partita per il rinnovo del Consiglio Comunale. Sono state presentate 19 liste in totale oltre ai 5 candidati a sindaco saranno poco meno di 600 i consiglieri che correranno per la carica appunto di consigliere comunale. La ricezione delle candidature è stata fatta nelle mani del segretario comunale la dottoressa Celestina Labbadia che ascoltiamo. Questa mattina in prosieguo con le operazioni iniziate già ieri mattina alle 8 abbiamo accettato le liste dei candidati. Noi procediamo a una prima verifica iniziale dei documenti e rimettiamo lista per lista ricevuta alla Commissione elettorale. La Commissione elettorale farà le ammissioni delle liste. Quindi quello sarà il secondo step importante? Quello è fondamentale perché la certificazione avviene dalla Commissione elettorale e la Commissione che adesso dovrà certificare questa documentazione perché è quella preposta a controllare i sottoscrittori, la presenza del rapporto maschio e femmine, le incandidabilità, questa documentazione. Entro quanto tempo la Commissione elettorale deve certificare la regolarità delle candidature? Entro 24 ore si insedia nel pomeriggio, crediamo che il lavoro finisca entro domani. Ricordiamo i nomi dei cinque candidati a sindaco in ordine alfabetico. Luca Amicone, sostenuto da una lista, Paolo De Cesare, 4 liste, Bruno Di Iorio, anche lui 4 liste, Fabrizio Di Stefano, 6 liste, Diego Ferrara, 4 liste.